Sono Mario, ho 15 anni e questa è la mia famiglia. Se penso al futuro, provo un senso di ansia che mi metta a disagio. Non sapere dove ero 15 anni fa, prima di nascere. È strano. Mario è un ragazzo che mi stupisce. Non mi dimenticherò mai una frase che mi ha detto quando ero circa 5 anni. Papino, ti posso chiedere una cosa? Mi ha detto, dimmi, dimmi. Ma secondo te, dopo il Big Bang, l'universo sta ancora in fase di esplosione o sta rimplodendo su se stesso tramite la trazione dei buchi nevi? La mia passione per l'onidologia è stata quando ho trovato un gnappo. Il mio passerotto addomessicato a terra. Si è appassionato addirittura al punto di voler un incubatrice. Ho acquistato un pacco di 16 uova di quaglia del supermercato e si è schiuso interamente. Sono una delle quagliette. Quello che mi aspetto dal collegio è di riuscire ad acquisire più sicurezza in me stesso perché guardando al futuro mi sento sempre molto incerto. Può capitarmi qualsiasi cosa. Adesso magari crolla il soffitto. No. 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 No.